Salvatore! Carmen! Carmen! Carmen ha detto Carmen. Allora, Carmen, due. Vai, Carmen. Si, si! No, non ti preoccupare. Oh! 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 Arno! Arno! 2-3 Ah! Oh! Oh! No! 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 Applausi Quasi, quasi, quasi L'ultimo Guarda Mario, guarda Oh Oh Vai Ragazzi ti vuole forno Adria 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 Vai come tu Anche la tua Ehi Ehi 9 Pronti Ho Ehi 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 È vero che chi va ancora? Sei tu Che viene a tirare Sei tu Vai, Vai Ah Data Non 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 grazie